Firmate le 16 convenzioni tra l'Azienda Politica Attiva del Lavoro, l'Ampal Servizi S.p.A. e le regioni per la definizione delle azioni di assistenza tecnica che Ampal fornirà attraverso i navigator. Stiamo parlando di reddito di cittadinanza. In Veneto di queste nuove figure professionali ne arriveranno 142, a Verona saranno 32. Ma chi sono i navigator? Sono persone sicuramente che hanno un titolo di studio elevato e che hanno fatto anche esperienza nel settore delle politiche attive, dell'orientamento e della formazione. Qual è il tema? È che ovviamente la selezione è stata fatta a 360 gradi, quindi sono ovviamente soggetti che possono venire anche da altre province, da altri mercati di lavoro, anche molto diversi. Si prenderanno cura per l'esattezza di quelle persone che sono state indicate abili a sottoscrivere il patto per il lavoro, perché in realtà una parte degli aderenti al peredito di cittadinanza è nella fascia di indigenza e quindi non parteciperà a ricerche di politica attiva del lavoro. Più o meno sul nostro territorio ne possiamo stimare poco più di 2.000. Questi 32 soggetti dovranno di fatto sviluppare il patto per il lavoro, quindi colloquiarli, fare il bilancio delle competenze e poi nell'arco di 18 mesi massimo proporre tre opportunità di lavoro. I nuovi operatori, assunti con contratti di collaborazione fino al 2021, dovranno ora sostenere un periodo di addestramento presso l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive, dopodiché inizierà il loro inserimento nei centri per l'impiego territoriali, in modo da riuscire ad affiancare e supportare gli operatori già presenti. Questo prevede una conoscenza molto approfondita del nostro territorio e del mondo del lavoro nel nostro territorio? Eh sì, su tre livelli userei dire, delle aziende, socio-economico, perché conta anche quello, e contrattuale, cioè quali sono le forme contrattuali che in questo momento stanno andando nel nostro mercato del lavoro e quali sono le modalità anche dei luoghi di lavoro, ad esempio il fatto che Amazon, il fatto che Lego abbia investito su Gardana, cioè ci sono tutta una serie di novità che ti danno una conformazione al mercato del lavoro veronese come un grande parco, permettetemi il termine, di divertimenti o grande parco logistico e con tutta una serie di professionalità dentro a questo mondo. Quindi molte professionalità che saranno dentro ai 2000 per settore a reddito di cittadinanza, non so qui se troveranno possibilità o opportunità di lavoro. Quindi era un esempio per dire che il navigator dovrà essere un profondo conoscitore del mercato del lavoro locale. Speriamo che siano locali, perché altrimenti faccio un po' fatica a combinare le due cose. Grazie.